La zona rossa viene prorogata, ma neppure questo convince le persone a prestare attenzione alle disposizioni di sicurezza. Infatti questa mattina continuano le persone a stare in giro, a creare assembramenti e soprattutto a non indossare correttamente la mascherina. Questi ultimi 15 giorni di zona rossa non hanno dato i risultati tanto sperati e ad oggi la città si ritrova nuovamente bloccata per almeno altri 7 giorni, con la speranza che la linea del contagio inizi finalmente a decrescere. Ha ragione, non dovremmo stare qua. Non ha torto, stiamo subito tornando a casa. E addirittura, ma è possibile che mi beccate sempre? E' questo quello che la gente continua ad affermare mentre passeggia per il centro storico formando anche assembramenti. Si parla di esasperazione, di libertà negata, di voglia di riprendere in mano la propria vita, ma molti continuano a non prestare attenzione alle disposizioni anti-covid, come fosse quasi una sfida con chi cerca di trovare soluzioni per contenere la costante crescita dei contagi. Buongiorno, scusate, siamo tornati in zona rossa. Come mai continuiamo a stare in giro, assembramenti e altro? Siamo venuti in questo momento e stiamo scomparendo perché effettivamente avete ragione. Siamo tornati in zona rossa, come mai siamo di nuovo in giro? Per giunta pure con la mascherina un pochino abbassata, diciamo. Sono tutta aperta qua. Però in Italia dovremmo stare a casa perché è zona rossa, niente assembramenti, mascherine e non uscire. Vabbè, qua c'è tutto fuori, sono quelle persone. Però se ci basiamo su quello che fanno gli altri così non ce ne usciamo più da questa situazione. E va bene, adesso vediamo, compro qualcosa, faccio un po' di spesa e poi vado a casa. Mi raccomando la mascherina. Buongiorno, mi scusi, siamo in zona rossa e siamo in giro e pure senza mascherina. Mi preoccupa, anche te cosa hai in giro? Sì, ma io ho la mascherina per lo meno. Per favore, se ne vada? Che ci facciamo in giro? Non ci dovremmo stare? Eh, lo so. Eppure senza mascherina? C'ho da fare. Questo grazie alle persone che vanno girando senza mascherina a fare assembramento. Ma infatti abbiamo notato che questa mattina c'è molta gente in giro. Io sapevo che eravamo in zona arangione e quindi potevo fare qualcosa. No, purtroppo si è tornati in zona rossa. Che ci vogliamo fare? Tutti i vecchi colleghi, una volta che ci incontriamo, che fa? Fai finta di non vederlo, ti fermi. Lo so, però è pure vero che siamo tornati di nuovo per la seconda notte in zona rossa. Vero, ma adesso no, non ci andiamo. Che ci facciamo in giro? Io? Io stavo a fare la spesa, sembra solo la musica. Il problema è che abbiamo un po' le mascherine abbassate. Sì, lo so, però, non lo so, siamo stati noi abbastanza distanziati, però una passeggiatina, poi stiamo sempre insieme, quindi. Però vedo che comunque la mascherina continui a mantenere l'abbassata. Lo so, vabbè. Dovrebbe esserci distanziamento, oppure comunque stare con le persone con cui penso stai quasi sempre, ma anche i familiari, perché voglio dire. Mascherina niente, diciamo così. No, mascherina sì, dai, però. Si desidera tanto un passaggio almeno in zona arancione, ma da quanto emerge da questo giovedì mattina, è come se quasi nessuno fosse veramente disposto a contribuire. Forse perché si crede che basti un solo schiocco di dita per riportare tutta la situazione alla normalità.